Oggi in Aula abbiamo affrontato le tematiche dei vincoli europei sui saldi di finanza pubblica, i vari trattati europei, il trattato di Maastricht, il fiscal compact, il semestre europeo, il two pack, il six pack e soprattutto abbiamo cercato di capire da dove nascano le soglie che vengono fissate dall'Unione Europea sui saldi di finanza pubblica e quale effetto abbiamo avuto sulla crescita economica e più in generale sull'economia del nostro Paese. Grazie.